Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial dove vi andrò a presentare quello che secondo noi è uno dei migliori temi che potete andare ad utilizzare per creare il vostro negozio online. È praticamente il tema più venduto all'interno di teamforest.net magari vi lascio il link qui sotto in descrizione. Comunque teamforest.net sostanzialmente è il marketplace più famoso per quanto riguarda l'acquisto di temi e plugin a pagamento per wordpress. Ad ogni modo ragazzi questo è un tutorial molto pratico quindi vi farò vedere proprio appunto nella pratica come funziona il tema flatsome quindi il tema che vi andrò a presentare all'interno di questo video e praticamente riuscirete a vedere proprio diciamo all'interno di questo video come funziona appunto questo fantastico tema così poi potrete decidere se andarlo ad acquistare anche voi per utilizzarlo e andare a realizzare il vostro negozio online. Ad ogni modo se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza a wordpress ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e a gestirsi il proprio sito utilizzando sempre wordpress. Quindi utilizziamo solo questa piattaforma e siamo proprio esperti su wordpress. Ad ogni modo noi appunto andando a realizzare siti per i nostri clienti quando andiamo a realizzare dei negozi online di solito andiamo ad utilizzare il tema flatsome perché appunto gli sviluppatori hanno creato diciamo dei template sviluppati ovviamente in modo professionale che potete andare ad importare all'interno della vostra installazione wordpress e poi naturalmente vi potete andare a modificare a vostro piacimento perché magari esistono altri temi che fanno sì la stessa cosa come ad esempio il tema astra oppure il tema ocean vp che comunque sono anche questi ottimi temi ma per quanto riguarda l'andare a realizzare dei negozi online ecco il tema flatsome secondo noi è migliore rispetto al tema astra oppure ocean vp questo perché se siete proprio agli inizi appunto vi permette di andare ad importare diciamo di template demo o meglio demo più che altro realizzato appunto dagli sviluppatori che hanno realizzato questo tema e poi ve lo potete andare a personalizzare al 100% in completo autonomia quindi in sostanza avrete a disposizione più template demo che potete andare ad importare all'interno del vostro sito ad ogni modo bando le ciance perché a me piace sempre fare dei video tutorial molto molto pratici adesso passiamo sul mio pc che vi vado a presentare il tema appunto flatsome e ve lo vado ad installare su una mia installazione demo che ho creato appositamente per registrare questo video tutorial così vedrete appunto il suo funzionamento e così potete decidere se andarlo ad acquistare anche voi per realizzare il vostro progetto online quindi passiamo sul mio pc che passiamo alla parte pratica ok ragazzi allora come vedete adesso mi trovo praticamente sulla pagina di vendita del tema flatsome che naturalmente vi lascio il link qui sotto in descrizione comunque è davvero un tema molto molto popolare appunto per quanto riguarda la realizzazione di negozi online con vcommerce è il tema più venduto appunto per quanto riguarda la creazione di negozi online con wordpress ad ogni modo quello che vi consiglio di fare è semplicemente di andare a cliccare qui sul live preview che adesso vi faccio vedere molto brevemente i siti demo che potete andare ad importarvi anche voi se andate ad acquistare questo fantastico tema qui semplicemente andate a cliccare qui su demo e questi qui sono tutti i layout che potete andare ad importarvi all'interno del vostro sito web quindi vi basta semplicemente andare ad acquistare questo tema adesso vi faccio vedere magari questo sito demo ecco qua e come vedete questo diciamo è il layout realizzato in modo professionale che a voi vi basta semplicemente davvero importarvi all'interno del vostro sito con due clic di mouse comunque vi farò vedere all'interno di questo video ora magari vado all'interno di una sezione sul sito demo e andiamo a vedere la pagina del prodotto come potete vedere insomma si visualizza in modo molto professionale qui troviamo insomma la classica galleria dove naturalmente andrete a inserire le immagini del vostro prodotto qui sulla destra ovviamente trovate il nome del prodotto il prezzo una breve descrizione e l'aggiunta al carrello insomma e qui ovviamente trovate tutta la descrizione completa e naturalmente i classici insomma prodotti correlati ad ogni modo questo è un template ovviamente come avete visto gli sviluppatori hanno realizzato diversi layout che vi potete andare ad importare all'interno del vostro sito ad ogni modo per quanto riguarda il costo di questo tema ecco costa all'incirca 60 euro e comunque acquistate questo tema una volta e potrete sempre ricevere gli aggiornamenti futuri per quanto riguarda la compatibilità appunto del tema e le future diciamo versioni di wordpress che andrete ad installare all'interno del vostro sito web perché naturalmente mi raccomando di andare ad aggiornare sempre tutti i componenti del vostro sito detto questo naturalmente noi ragazzi già abbiamo acquistato il tema flatsome perché li utilizziamo insomma anche per realizzare i siti dei nostri clienti detto questo quindi ho preparato proprio un'installazione pulitissima di wordpress quindi come vedete ho appunto il tema di default attivo di wordpress se vado sul back end e vado qui su aspetto temi vedete insomma che il tema attivo è il tema 2021 ora ovviamente vado su aggiungi nuovo poi vado ovviamente su carica tema choose file e vado a selezionare il tema insomma flatsome che mi sono scaricato in precedenza voi per andare a scaricare il tema semplicemente ovviamente andate ad acquistarlo e andate all'interno dell'area membri di team forest e lì potrete insomma scaricare il tema ad ogni modo poi andate a caricare seguendo questa procedura che vi ho fatto vedere poco fa insomma a video e andate a cliccare su install adesso ora ovviamente dovete aspettare un attimo che il tema si installi all'interno del vostro sito web quindi mi raccomando di non chiudere questa finestra e aspettate insomma che il tema venga installato correttamente all'interno del vostro sito perfetto come vedete una volta che avete installato il tema flatsome all'interno del vostro sito vi compare praticamente la procedura guidata di setup di questo tema ora semplicemente andate semplicemente a cliccare qui su let's go e partiamo con la nostra procedura guidata qui mi raccomando come primo step andate a cliccare su questo link e andate a generare i token per andare ad attivare la licenza del tema flatsome all'interno del vostro sito questa cosa è molto importante per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri che rilasceranno gli sviluppatori di questo tema perché se non inserite insomma la vostra licenza non riuscirete ad andare ad aggiornare il tema all'interno del vostro sito io per il momento diciamo che salto questo passaggio comunque voi mi raccomando di andare a generare i token e di andarlo ad inserire all'interno di questo campo comunque una volta che avete inserito il vostro token andiamo avanti qui andate a dare un nome al tema chide del tema flatsome comunque vi consiglio di lasciare il nome così com'è di default e andate a creare anche il tema chide perfetto adesso il tema chide è stato creato clicchiamo sempre su continua e qui adesso come plugin in sostanza il tema flatsome ci va a consigliare o meglio ci va a far vedere diciamo i plugin che sono richiesti per poter funzionare correttamente con il tema flatsome quindi semplicemente ragazzi andate a cliccare su pulsante continua e i plugin varanno installati all'interno della vostra installazione wordpress se ovviamente non sono già installati all'interno del vostro sito come vedete insomma ci mette davvero poco ad andare ad installare tutti i plugin comunque mi raccomando attendete che tutti i plugin vengono installati correttamente all'interno della vostra installazione wordpress e qui praticamente adesso il tema vi fa importare diciamo un template demo da andare ad installare all'interno del vostro sito vi consiglio per il momento di andare ad importare tutti questi contenuti perché comunque poi se volete li potete andare a modificare o andare ad eliminare all'interno del vostro sito io comunque adesso vado a cliccare su continua perché voglio andare ad importarmi all'interno di questo mio sito demo e comunque vi consiglio di fare altrettanto perfetto come vedete adesso tutti i contenuti si sono importati correttamente all'interno del mio sito demo qui se volete naturalmente potete andare a caricare il logo del vostro sito quindi vi basta cliccare su upload e andare a caricarvi il vostro logo siccome questo è un sito demo io semplicemente insomma vado a lasciare il logo di default e qui mi raccomando che come vedete trovate i vari preset da andare ad importarvi sull'home page del sito quindi tutti diciamo il layout demo che volete andare ad importarvi all'interno del vostro sito ovviamente dovete andare semplicemente a scegliere un layout io per questo esempio vado semplicemente a scegliere lo stesso layout che vi avevo fatto vedere in precedenza quindi questo layout se non ricordo male e vado a cliccare sul pulsante continua in questo modo praticamente il layout verrà applicato all'interno del mio sito questo significa che naturalmente poi riusciremo a visualizzare il layout proprio sull'home page del nostro sito ad ogni modo tra pochissimo vi faccio vedere adesso qui andiamo ad accettare i termini per quanto riguarda richieste di supporto da fare agli sviluppatori insomma che hanno realizzato il tema fretsome quindi clicchiamo su accetta e continua ed ecco qui ragazzi che abbiamo terminato con la procedura guidata quindi adesso andiamo a cliccare su questo pulsante e andiamo a vedere proprio nel front end come si visualizza il nostro sito web ed ecco qua che come vedete siamo assolutamente nel nostro dominio quindi all'interno del nostro sito e come vedete il layout è stato importato correttamente all'interno del nostro sito ovviamente come vedete non sono state importate tutte le immagini per quanto riguarda i prodotti ma questo ovviamente è per quanto riguarda il salvare dello spazio all'interno del vostro sito perché comunque naturalmente le immagini dovete caricare le immagini per quanto riguarda i vostri prodotti dico bene comunque come vedete la testata il menu e il layout del sito sono stati importati correttamente all'interno del nostro sito web come vedete insomma è stato creato anche il footer del sito quindi direi che abbiamo un ottimo punto di partenza ora per quanto riguarda l'andare a modificare tutto quello che riguarda il vostro sito web andando ad utilizzare il tema flatsome ecco praticamente come vedete qui è apparsa una nuova voce ovvero appunto la voce flatsome qui ovviamente trovate tutte le impostazioni per quanto riguarda la modifica delle varie parti del vostro sito e tutte le impostazioni per quanto riguarda insomma il tema appunto flatsome mentre per quanto riguarda la modifica della pagina praticamente come vedete qui ci viene scritto modifica con ux builder perché questo qui praticamente se vado a cliccarci sopra è l'editor visuale proprietario del tema flatsome ora all'interno del nostro canale youtube abbiamo recensito ad esempio l'editor visuale elementor oppure l'editor visuale del tema divi ecco il tema flatsome hanno proprio un loro editor visuale che è appunto questo qui che vi permetterà di andare a realizzare tutte le pagine del vostro sito in completa autonomia e in modo insomma professionale ora ovviamente per imparare ad utilizzare questo editor vi consiglio di andarvi a vedere la documentazione ufficiale che è stata realizzata appunto dagli sviluppatori del tema flatsome ad ogni modo molto velocemente ragazzi vi basta andare a cliccare su un elemento ad esempio su questo testo e come per quanto riguarda gli altri editor visuali quindi elemento l'editor visuale di divi eccetera eccetera qui su a sinistra trovate tutte le impostazioni di un determinato elemento quindi qui come vedete insomma trovate le impostazioni del testo quindi se volete andare a cambiarvi del testo basta che ve lo andate a cambiare e insomma come vedete il testo è stato sostituito qui trovate ovviamente la modifica della grandezza del font quindi se volete potete andare a cambiare a vostro piacimento trovate insomma l'interlinea del font potete andare ad allineare il testo a vostro piacimento e così via insomma trovate tutte le impostazioni di un determinato elemento se vado a cliccare ad esempio su questo sfondo come vedete praticamente qui troviamo appunto lo sfondo che lo possiamo andare a cambiare magari con una nostra immagine a nostra scelta ovviamente se sposto il mouse magari qui su una colonna e vado a trascinare praticamente questa colonna come vedete posso andare ad ingrandire o a rimpicciolire insomma i vari contenuti o meglio le varie colonne davvero con tutta semplicità quindi ragazzi per andare a modificare un determinato elemento vi basta andarlo a selezionare e qui sulla sinistra trovate tutte le impostazioni mentre per quanto riguarda andare ad aggiungere nuovi elementi all'interno del sito quindi all'interno della pagina come vedete se sposto il mouse diciamo sopra o sotto a un determinato elemento compare diciamo questa fascia azzurrina con l'icona più quindi vado a cliccare semplicemente sulle più e qui sulla sinistra mi compaiono tutti gli elementi che posso andare ad aggiungere all'interno diciamo di questa sezione quindi sopra a questa sezione praticamente quindi se voglio andare ad aggiungere magari una nuova riga vado semplicemente a selezionare questo elemento e vado magari ad aggiungere quattro colonne quindi ecco qua che le quattro colonne sono state aggiunte correttamente all'interno della mia pagina web qui ovviamente se vado a selezionare più su una determinata colonna posso andare ad aggiungere un pulsante all'interno della colonna eccolo qua qui ovviamente posso andare a personalizzarmi l'aspetto del pulsante ed ecco qua che l'abbiamo inserito all'interno della colonna ovviamente qui trovate tutte le impostazioni per quanto riguarda la modifica di questo pulsante comunque come avete visto andare a modificare qualsiasi cosa di una determinata pagina è davvero molto semplice una cosa importante che ci tengo a dirvi all'interno di questa pagina è che qui sulla destra trovate le impostazioni per quanto riguarda la vista dei vari dispositivi perché se vado a cliccare su questa icona andiamo sulla vista tablet quindi qui potete vedere come si visualizza il vostro sito da tablet mentre se vado a cliccare su mobile ovviamente potete vedere la vista da smartphone che ovviamente potete vedere il menu come si visualizza e potete navigare insomma all'interno della vostra pagina web quindi potete andare a vedere se la vostra pagina si visualizza correttamente su tutti i dispositivi una volta che avete visto insomma potete tornare sulla vista desktop qui sulla sinistra comunque potete andare a riordinare anche tutti i vari elementi semplicemente premendo sull'elemento e trascinarlo dove volete insomma all'interno della pagina ad esempio sotto al titolo ecco qua e come vedete l'elemento è stato trascinato quindi davvero ottimo per andare a realizzare insomma grandi pagine web ovviamente comunque ragazzi come vi dicevo questo è un tema che è stato realizzato per realizzare soprattutto negozi online quindi ad esempio se vado a cliccare sull'icona più di questa colonna qui troverete tutti i classici elementi di v commerce quindi se qui magari vado a scorrere la pagina vedete ecco qua i classici elementi di v commerce quindi potete andare ad inserire i prodotti più recenti magari che avete inserito all'interno del vostro negozio all'interno di questa colonna i prodotti più venduti i prodotti insomma con le migliori recensioni eccetera eccetera quindi il tema è stato sviluppato proprio per andare a creare dei negozi online detto questo adesso vado semplicemente ad aggiornare la pagina e torno sul back end di wordpress perché vi faccio vedere molto velocemente le impostazioni del tema flatsome quindi torno semplicemente sul back end di wordpress cliccando su questa x come vedete adesso siamo sul front end torno sulla baccheca e praticamente le impostazioni del tema le trovate sempre qui sulla voce flatsome quindi qui trovate appunto le impostazioni del tema cliccando su questa voce e qui insomma trovate davvero tantissime tantissime impostazioni che ovviamente non posso andarvi ad elencare all'interno di questo video comunque ad esempio se volete andarvi a modificare la testata del vostro sito semplicemente andate qui su header e qui trovate tutte le impostazioni appunto dell'header del vostro sito ovviamente se volete semplicemente andarvi a modificare il logo andate a cliccare qui sulla voce logo appunto e sulla sinistra come vedete vi compariranno le impostazioni di un determinato elemento quindi ovviamente se volete andare magari a modificare il footer stessa cosa quindi andate a cliccare qui ed ecco qua le impostazioni per quanto riguarda il widget html che è stato aggiunto sul footer del sito quindi tutto molto intuitivo qui se volete potete tornare indietro e tornare insomma sulle impostazioni generali del tema ovviamente comunque ragazzi per quanto riguarda la visualizzazione dei prodotti all'interno delle home page del sito naturalmente qui dove vedete scritto le categorie diciamo in evidenza qui verranno inseriti i prodotti man mano che li andrete ad inserire all'interno del back end di wordpress ovviamente se non sapete come fare questo comunque ho realizzato dei video tutorial specifici che potete trovare magari all'interno del nostro canale youtube comunque per andare ad inserire dei prodotti vi basta tornare sulla baccheca di wordpress e andare qui su prodotti adesso io praticamente ho la sezione in inglese e comunque andate qui su prodotti e ovviamente qui trovate appunto tutti i prodotti che sono stati inseriti all'interno del vostro negozio questi sono appunto dei prodotti demo che sono stati creati quando siete andati a configurare il tema flatsom all'interno del vostro sito comunque vi basta semplicemente andarli a selezionare e potete andare a spostarli sul cestino quindi semplicemente spostateli sul cestino e partite ad inserire i vostri prodotti insomma proprio da zero qui avevano creato praticamente quasi 40 prodotti comunque andatevi a spostare sul cestino così partirete da zero ed ecco qua che tutti i prodotti demo sono stati eliminati dal sito ovviamente ragazzi se adesso vado sull'home page del sito vedrete che i prodotti non vengono visualizzati sull'home page perché naturalmente sono andato ad eliminarli all'interno del sito web come vedete ecco qua che tutti i prodotti sono scomparsi comunque ancora quando li andrete ad inserire all'interno del vostro sito i prodotti verranno visualizzati correttamente all'interno delle sezioni del vostro sito web quindi ragazzi mi raccomando di andarvi a personalizzare tutte le pagine del vostro sito questa comunque è la pagina relativa al negozio che ve la potete ovviamente andare a personalizzare al massimo sempre con l'editor visuale del tema flatsom quindi tutte le pagine del sito ve le potete andare a personalizzare davvero al massimo andando ad utilizzare l'editor visuale proprietario del tema flatsom ok ragazzi all'interno di questo video vi ho presentato il tema flatsom uno dei migliori temi che potete utilizzare per andare a realizzare un negozio online utilizzando wordpress non so se già lo conoscevate comunque questo secondo noi ad avere un fantastico tema perché più che altro vi permette appunto di importare molti layout che sono stati sviluppati dagli sviluppatori del tema flatsom in questo modo a voi basta semplicemente importarvi layout all'interno della vostra installazione wordpress e poi ve lo potete andare a personalizzare al 100% e in completa autonomia grazie all'editor visuale che avete visto all'interno di questo video che è stato sviluppato sempre dagli stessi sviluppatori che hanno realizzato il tema quindi sono sicuro che non vi troverete molto in difficoltà ad ogni modo se con questo video vi sono stato di aiuto come sempre vi invito a lasciarmi un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate a raggiungere più persone con i miei video tutorial e se non lo avete ancora fatto e siete interessati a questi argomenti naturalmente vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube oppure di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina facebook perché rilasciamo video come questi praticamente ogni altro giorno che sono sicuro vi torneranno di grande aiuto per il vostro sito web adesso o in futuro quindi se avete dei dubbi comunque su quanto spiegato all'interno di questo video potete sempre scrivermi il vostro commento sotto a questo video quindi qui sotto nella descrizione e naturalmente sappiate che io leggo sempre tutti i commenti e cerco di rispondere al numero più alto di commenti possibili ovviamente sempre tempo permettendo ragazzi ok quindi ancora spero vivamente che con questo video vi sono stato di aiuto non mi era stato che salutarvi e noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo